Siamo qui sul canale per andare a parlare del grande freddo atteso fino alle pianure del nord. Andiamo a vedere attraverso il grafico, il modello GFS, delle temperature in quota, quello che succederà e quando entrerà il freddo nelle nostre pianure e nella nostra penisola. Nella giornata di oggi ancora temperature molto molto miti, un po' più fresche fra i confini, però nulla di così speciale. Andiamo a vedere che nei prossimi giorni già un abbassamento delle temperature è atteso un po' su tutto il nostro nord, quindi con valori che potrebbero scendere anche fino a 0 gradi, 1 grado, 2 gradi al mattino, ma anche nelle prime ore del pomeriggio, quindi temperature che saranno veramente fredde sia nei valori massimi che nei valori minimi. Andiamo a vedere però come il denso strato di gelo che si sta formando su tutto il nord Europa stia piano piano scivolando verso la nostra penisola, ok? Quindi i primi effetti li vedremo appunto nella giornata tra l'8 e il 9, quando sono attese tra l'altro delle nevicate possibili a quote basse su Piemonte e Lombardia, addirittura qualche fiocco che si potrebbe vedere nella città di Torino, con neve a cuneo, neve ad asti, qualche fiocco anche ad Alessandria. Andiamo però a vedere la cosa più interessante, ovvero il grande freddo. Il grande freddo è atteso dopo il 10. Guardate come il gelo siberiano scende sulla nostra penisola, ok? Dopo il 10 il freddo si forma su tutta l'Europa, quindi forte freddo su Svezia, su Norvegia, anche su Londra, quindi su tutto il Regno Unito, su Germania, su Polonia, anche sulla Francia. E guardate come nella giornata dell'11 e del 12 scivola con delle minime veramente, veramente fredde. Questo gelo, tra l'altro, dovrebbe essere duraturo, secondo i modelli, che dovrebbe durare fino al 15-16, con un'intensificazione tra il 14 e il 15, ok? Dove tra l'altro sono probabilmente attese delle nevicate anche abbondanti fino al piano. Quindi il freddo sta arrivando in Italia, adesso andiamo a vedere anche la mappa delle temperature al suolo. Guardate che nella giornata di oggi le temperature restano molto umiti, però c'è un cambiamento perché tra il 6 e il 7 le temperature già potrebbero scendere con dei valori bassi, come già detto prima, anche in pianura al nord. Tra il 9 e il 10, ragazzi, cambia tutto. Perché? Perché entra il freddo e le temperature si abbassano con una velocità impressionante, con valori che potrebbero essere al di sotto di qualche grado anche in pianura, al di sotto dello 0, ovviamente. E il gelo che ovviamente dovrebbe anche intensificarsi tra il 15 e il 16, dove sono attese temperature veramente rigide su tutto il nord Italia. La zona più colpita dovrebbe essere l'Emilia-Romagna, però anche il Piemonte e la Lombardia, il 31 al tuo agio, quindi tutto il nord, con temperature in discesa anche dopo il 15 al centro, ok? Quindi sul Lazio, alle porte di Roma, sulle coste, dove sono attese probabili e possibili nevicate. Ovviamente per quanto riguarda le nevicate è ancora presto per parlarne. Ne parleremo in un prossimo video. Però da questo grafico possiamo vedere, possiamo confermare che il gelo si sta già formando, ok? Già nella giornata di oggi, in Europa, il gelo si sta già formando. Guardate come scende, come scende, come scende fin verso le nostre pianure, ok? Quindi il nord sarà coinvolto dopo il 10 dicembre dal grande freddo. Le conseguenze saranno semplicemente freddo, gelate al mattino e possibilità di formazione a più riprese di cicloni, che porterebbero appunto perturbazioni e quindi fenomeni nevosi, probabilmente in pianura. Ok? Quindi il gelo arriverà. Ragazzi, questa ovviamente è una tendenza, ok? Nulla è certo, però abbiamo una probabilità molto alta. Siccome i modelli negli ultimi giorni si stanno un attimino confermando, sono più equilibrati, più stabili rispetto ai giorni scorsi. Abbiamo un'affidabilità intorno al 60-65%, però non si sa mai. Iscrivetevi al canale ragazzi, mi raccomando, per non perdervi i prossimi aggiornamenti meteo, perché ce ne saranno tantissimi, saranno tutti importantissimi. Noi ci vediamo ad un prossimo video e ad un prossimo aggiornamento. Ciao! Ciao!